Il giudice di pace annulla le multe perché l'autovelox non era omologato. L'autovelox è quello di bussi sul Tirino. Ora la Cassazione ha recepito l'ultima ordinanza stabilendo che le multe per eccesso di velocità sono illegittime e aprendo la strada di fatto a una valanga di ricorsi. Tutto parte dalla denuncia di un cittadino multato che si è rivolto al legale aquilano Carlotta Ludovici. Cittadino che avrebbe dovuto pagare sanzioni pecunarie onerose oltre a subire la decurtazione dei punti dalla patente. Invece dopo una lunga battaglia legale iniziata nel 2019 il giudice di pace di Pescara ha ritenuto nei giorni scorsi illegittima la prassi seguita finora e annullato le contravvenzioni. In sostanza tutto ruota attorno a questioni squisitamente tecniche dell'approvazione e dell'omologazione dell'autovelox che per il giudice sono due cose ben distinte. Molto soddisfatta l'avvocatessa aquilana perché la questione potrebbe aprire la strada ad altri ricorsi. Sono tanti i cittadini infatti, cittadini aquilani soprattutto, che ogni giorno percorrono quella strada per lavoro anche perché molti sono stati raggiunti da provvedimenti contrastanti tra loro, spiegato il legale, sempre legati a multe per l'autovelox. In sostanza alcuni si sono visti annullare le multe, altri no.